Con una stagione d'apertura così riuscita e tanti momenti memorabili, si potrebbe essere in attesa di più finali alternativi. Non sei d'accordo? Sì, immagino di sì. Potrebbe perfino stabilire un'aspettativa per le stagioni future. Ok, ok, non anticipiamo noi stessi. Mettiamoci al lavoro, va bene. Sarò il primo alieno di Star Wars a usare il bagno. Siete va bene. Non scendere! Sto facendo la muta. Oh mio dio, armi! Muori Mandaloriano! Hai lasciato le armi vicino al bagno, idiota! Grazie per aver portato la pace nella mia valle. Sì, pace. E per essere così ridicolmente paziente con quei dannati Javas che ti hanno demolito la tua intera nave, causandoti un enorme ritardo e lasciandoti senza via di fuga. Giusto. che cosa gli hai fatto? Lo sto proteggendo, lo sto proteggendo. Se non fosse stato per me sarebbe già morto. Ti prego. Beh, normalmente me ne andrei dopo una simile dichiarazione, ma dato che oggi infrango tutte le regole, penso che mi piacerebbe continuare con... Cosa intendi per proteggerlo? Non posso dirlo. Parla! Ok, ok, è solo... è una storia davvero lunga. Aspetterò. Che vuol dire che è sensibile alla forza? Che vuol dire che l'imperatore non è morto? Che vuol dire che l'imperatore aveva una ragazza? Che vuol dire che quelli si chiamano occhiali! Non hai mai mostrato la tua faccia a nessuno prima? Questa è la via. Ok, beh, fammi sapere se c'è qualcosa di cui hai bisogno. Ok, ora che sei andata mi limiterò a togliermi il mio casco davanti a questa grande finestra e godermi questo pasto preparato. Ehi, guardate, il nuovo ragazzo si è appena tolto il casco. Lo vedo anch'io! Oh, è quello che sembra. Ciao! Non dicevi che questa era la via. Sto cercando un lavoro. Sfortunatamente la gilda non opera più su Tatooine. Ripensaci bene, barattolo. Se stai cercando un lavoro, siediti, amico mio. Scusa se ho sporcato. Quel tipo era al mio posto. Quindi dicevo hai qualche altro tipo di lavoro? U exemple! Ma che cosa ha preso? Ma che problemi hai? Ma che cavolo? Ma piccoletto, sembra che starei qui ancora per un bel po'. E non c'è niente di sbagliato in questo episodio, devi solo spostarti di lì o ti faccio fuori Hai qualcosa che voglio Chi è questo tipo? Potresti avere un'idea di ciò di cui sei in possesso Ma non è così Qui, sei già tornato alla nave? Non ancora Ce ne sono due, porta il bambino in salvo Torna la nave, vattene da qui Ti ho già sentito la prima volta IG 11 Sì signore È tempo che tu allatti e protegga Non vuoi che aspetti il prossimo episodio? Ho parlato Tra pochi istanti lui sarà mio È normale che le avventure abbiano un finale aetico Attaccare in anticipo potrebbe rovinare la struttura della storia altrimenti piacevole Ho detto che ho parlato Sì signore Sei stato protetto Significa più per me Questa conversazione è noiosa Di quanto tu possa ma... Cosa dicevi? Mi dispiace di essermi perso l'ultima parte In realtà non me la sono persa Al momento sono un po' scosso da dire il vero Ma...avete reso l'idea? Beh stava proprio davanti alla finestra senza casco Cosa si aspettava sarebbe successo? Roccheggiamo! Con le motore! Con le motore! Beh è stato facile Confitto attiva e autodistruzione Io ho preso adesso! Che fiamine è quella? E' questa la via? No Non è questa la via E' questa la via? No O forse è così? No Non è questa la via Non è difficile E' questa la via Forse è questa la Ecco perché ho gli idroidi Che ne dici di questa via?